USB Taranto, Assemblea lavoratori ex ILVA in AS, siamo con il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo, un incontro questa mattina, propedeutico anche alla grande manifestazione che USB terrà martedì 5 novembre sotto il MISE. I punti trattati questa mattina? Abbiamo fatto un aggiornamento della situazione rispetto a tutta una serie di impegni che avevamo preso con i lavoratori, quindi abbiamo fatto poi un focus veloce sulla situazione attuale, su quello che è avvenuto e lì abbiamo poi portato avanti il ragionamento rispetto alla manifestazione del 5 a Roma, manifestazione in cui noi rivendicheremo il diritto a dire no all'immunità penale, e sì alla rescissione del contratto perché secondo noi Arsio e Lorenzo Impiente è il governo che deve rescendere il contratto e sì all'eventualità di un accordo di programma che porti alla chiusura dell'aria a caldo. Noi vogliamo un po' uscire e fare emergere una situazione che deve essere chiara a tutti, non siamo più nella condizione di poter recuperare, quello stabilimento è in una fase di lenta moria, il rischio serio è che si arrivi alle condizioni in cui versava lo stabilimento Tissencrupp quando c'è stata quella tragedia tanti anni fa, perché la logica è tiro a campare, quella è la logica che Arsio Ormittal oggi sta avendo sull'iva di Taranto, non ci sono investimenti, non c'è una progettazione, non c'è una programmazione, addirittura l'azienda sembra quasi... All'insegna della logica finché dura, tiriamo? Sì, finché dura tiriamo perché poi non devo essere io a dire che vado via ma devi essere tu a dire che me ne devo andare perché poi magari ti devo far causa, la logica può essere questa. In tutto ciò ci sono le vite delle persone che vengono costantemente messe in discussione sia per l'inquinamento ma anche e soprattutto per quello che la fabbrica produce in termini di sicurezza. Eppure Rizzo, ascoltando un po' quanto riferito dai vertici di Arsio Ormittal, loro puntualmente dichiarano di essere, di aver ottemperato alle varie prescrizioni, di essere diciamo in regola con i tempi. Viene poi da sorridere o meglio da piangere quando poi sentiamo di parlare di ambientalizzazione nel 2050, siamo nel 2019, mancano un po' di anni, un po' di decenni. Sì, ma ormai è diventato un atteggiamento stucchevole, è come se io oggi dicessi a te che sono alto 2 metri e 0,5, sono biondo con gli occhi azzurri e ho 14 anni. Tu magari mi guardi e dici... Allora, il problema è, diciamo, l'altra cosa che abbiamo capito di Arcelor, Arcelor gioca moltissimo con questi comunicati stampa che servono soprattutto a dare un'immagine che è completamente diversa rispetto alla realtà. Comunicati di regime, come un po' all'epoca dei Riva? Sì, loro danno messaggi che sono completamente distanti da quella che è la situazione reale. Cioè, se voi leggete alcune delle lettere che hanno inviato la Prefettura della Regione Puglia, quando c'erano le convocazioni per il cambio d'appalto in cui loro tra l'altro non si presentavano, erano lettere in cui loro dicevano, inneggiavano al dialogo, dicevano che noi siamo disponibili, aperti, così come abbiamo sempre dimostrato. Cioè, a un certo punto noi con i vari soggetti ci guardavamo in faccia e veniva anche da ridere, no? Perché a un anno della venuta a Taranto, quello che lamentano tutti è proprio la mancanza di comunicazione e la mancanza, come dire, anche di interesse rispetto a quelli che sono temi centrali a Taranto, il tema della salute, il tema di una città che è fratturata fra coloro che sono a favore dell'Ilva e coloro che sono contro. Quindi da questo punto di vista, come dire. Poi c'è un'altra situazione strana. Da un lato i sindacati, le sigle sindacali FIM, FIOM e WILM, che hanno posizioni per alcuni aspetti vicine ad Arcelor Mittal. Ovviamente loro sono contro, sono a favore dell'immunità penale e dall'altra la vostra sigla che viene puntualmente esclusa. Sì, questo è l'altro, ne ragionavamo l'altro giorno. Il messaggio che fa passare il ministro Patuanelli è un messaggio bruttissimo, perché se tu convochi tre organizzazioni, non tieni presente, ecco, la parte democratica dovrebbe essere quella della rappresentanza. Siamo il 20% all'interno di quella fabbrica e con i lavoratori di Vainas, in totale non rappresentiamo il 20% della forza lavoro. Tu ci escludi? A me viene il dubbio che mi escludi perché abbiamo una posizione nettamente diversa sull'immunità penale, sul fatto di continuare ad avere come riferimento Mittal e soprattutto per quella dichiarazione rispetto all'accordo di programma e la chiusura dell'araccaldo. Tra l'altro dichiarazione fatta dal Movimento 5 Stelle, almeno quello locale. A questo proposito c'è il Movimento 5 Stelle e il partito di maggioranza relativa, la prima forza politica in Italia, stando alle ultime parlamentari, al di là dell'esito delle regionali. Però c'è una conflittualità interna all'interno dei 5 Stelle, perché se da un lato ci sono anche notevoli, ci sono esponenti di rilievo, penso all'ex ministro Barbara Lezzi che parla di chiusura, e si schiera ovviamente contro l'immunità penale. Dall'alto però c'è il ministro, c'è Di Maio stesso, che tranquillamente inneggiano quasi alla continuazione della produzione. Questa conflittualità interna confonde ancora di più le idee? Di Maio, a me spiace dirlo, ma ci sta facendo la figura del bambino a cui hanno sottratto il lecca-lecca. Tra l'altro sta dando dimostrazione di avere spessore politico pari a zero, anche e soprattutto perché si permette il lusso, dopo che non ha gestito tutta la fase successiva all'accordo, perché quello che gli abbiamo improverato è firmato l'accordo, quella è la parte semplice, poi c'è la parte della gestione, quella è la più complicata, si è completamente equassentato, probabilmente nella sua testa, sottoscritto l'accordo, come dire, le cose andranno bene da sole. Non era possibile immaginare uno scenario del genere, anche e soprattutto per quello che Taranto ha rappresentato, che il va rappresentato negli ultimi dieci anni e che rappresenta ancora sul territorio. Il fatto positivo è che oggi ci sono i parlamentari, i senatori pugliesi, pugliesi, Lezzi con Barbara Lezzi e Mario Turco in testa, ma tutti, pare che siano tutti sulla posizione, come dire, accordo di programma, chiusura dall'aria a caldo. Poi c'è il ministro che la pensa diversamente. Poi c'è il ministro che dice l'esatto contrario. Che rimarca. Ma io spero, io te lo dico molto onestamente, perché poi a un certo punto, uno ci crede fino a un certo punto, ma poi tira le conclusioni. Non crediamo certo alla Befana. Mantengono la posizione fino in fondo, perché qui parliamo della salute delle persone, e la cosa che mi dà enormemente fastidio è che Patuanelli non sa manco dove si trova Taranto, sulla cartina geografica, e si permette il lusso, come prima dichiarazione, di dire garantiremo la continuità produttiva. Così come Di Maio farebbe meglio stare zitto, perché probabilmente non si rende conto, come dire, che passerà alla storia Di Maio. Ce lo ricorderemo come quello che ha distrutto il Movimento 5 Stelle. Almeno questo lo possiamo dire. Poi non è quella la mia soddisfazione. La mia soddisfazione sarà quella di vedere, portato a compimento quel ragionamento che una parte del Movimento fa, e che mi sembra che sia anche appoggiato da Regione e da Comune, sul fatto di mettersi a discutere su quello che deve essere l'alternativa all'aria a caldo dell'Ilva, cioè al fatto che bisogna chiudere perché le condizioni per andare avanti Taranto non ce le ha più. Noi siamo a livelli della Thyssen Group quando è avvenuta la tragedia dei sette lavoratori. Ci mancava solo la Morselli per completare il quadro? Non la conosco. La fama è di tagliateste. La fama è di tagliatrice di teste. Però io ho fatto un esempio chiaro. Se alla Morselli danno una borsa di soldi, verrà qui e dirà ho i miliardi da investire, miglioreremo in sicurezza, in tutto, e quindi farà un'impressione positiva. Se la Morselli viene qua, apre la borsa, e dentro la borsa c'ha l'ascia e la mannaia, è chiaro che avranno ragione chi dice che è una tagliatrice di teste. Per concludere la nostra intervista, altre ipotesi di cassa integrazione in vista? Numeri di cassa integrazione ancora più ampi? Sì, adesso diciamo che è messa in discussione il popolo a tenuta generale. Cosa si paventa proprio? Io, ecco, chiudiamo in maniera diversa stavolta. Non mi farò la domanda su di qual è la speranza del prossimo futuro? Che per una volta Arcelor Mittal mantenga la parola. Io, una volta sola, se Arcelor Mittal per una volta mantiene la parola, io sarò l'uomo più felice del mondo. E che deve fare Arcelor Mittal? Deve mantenere la promessa che ha fatto più volte quando gli è stato chiesto se ti ritirano l'immunità penale, tu che fai, me ne vado. Quindi, Arcelor Mittal, vai!